Primo derby di campionato per l'Ames Baarezzo che domenica pomeriggio alle 18 al palazzetto comunale di San Giovanni sfiderà la Synergy Basket Valdarno. Le due squadre arrivano a questa partita con due stati d'animo opposti. La Sba reduce da due sconfitte mentre i valdarnesi nel turno infrasettimanale hanno battuto in trasferta la Fides Montevarchi conquistando i primi due punti della stagione. L'Amen nella gara di mercoledì contro la capolista Virtus Siena ha mostrato dei passi in avanti rispetto all'esordio. Domenica servirà un ulteriore scatto in avanti per cercare di mettere in difficoltà una squadra compatta come quella allenata da coach Caimi dove non mancano elementi di qualità. Alle motivazioni della classifica si aggiungono poi quelle di un derby che nello scorso campionato a causa della pandemia si è disputato solo una volta senza la gara di ritorno programmata proprio a San Giovanni Valdarno. Partita porte chiuse ma per tutti i sostenitori sarà possibile seguire la diretta streaming della partita realizzata da Synergy Basket Valdarno che sarà condivisa anche sulla nostra pagina Facebook di Arezzo TV e su quella della Scuola Basket Arezzo. Grazie. Grazie.